Ioandi, ben arrivato a Modena, tanti anni d'avversario, tante volte qui al Palapanini, adesso con la maglia giallo-blu addosso. Ti chiedo come è nata la scelta di arrivare qui a Modena? Grazie per tutto. La scelta, come ho detto prima, è una società che volevo giocare da un tempo già, quindi in questo anno si è dato la possibilità, aspetto di dimostrare tutto lo che veniva facendo durante questi anni. Vado a giocare con un grande giocatore, quindi possiamo fare una bella stazione. Ecco, arrivi in una squadra molto rinnovata, molto ambiziosa. Cosa ti aspetti da questo gruppo? Eh sì, è una squadra ambitiosa, anche la società è ambitiosa. Questo è buono perché hai investito tanti in questo giocatore e sempre giocare con un giocatore buono è facile, diciamo. Però l'importante è che noi tutti stiamo a giocare insieme e fare una bella stazione. Ritrovi qui a Bruno, troverai invece a Ngapet, a Nimiar, insomma tanti attaccanti di alto livello. Eh sì, sì, principalmente a Nimiar che ha cresciuto tantissimo in questi anni e con Ngapet tengo un po' dei fili. Con Bruno hai giocato tanti anni già, quindi siamo un quarteto bello. E spero che mi piaccia giocare con loro, anche loro con me. Quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare prima di iniziare il campionato. Si può pronunciare la parola Scudetto? Per il momento è pietata. No, credo che sono quattro team favoriti da Scudetto, quindi sono uno giocatore che deve lavorare tanti per vincere il campionato italiano, già che è un campionato più forte del mondo. Quindi aspettiamo che succeda durante questa giornata. Siete tanti giocatori...